Come si sta avvicinando al mondo del sistema costruttivo secco? Se un cliente ha bisogno di velocità e di disponibilità del materiale immediato, per lui diventa importante trovarlo subito. Se un altro cliente ha bisogno di consegnare del materiale in un luogo poco accessibile, poco comodo e serve una logistica particolare ed organizzata, per lui diventa il miglior servizio. Le realizzazioni con i sistemi a secco hanno un impatto completamente diverso sull'ambiente rispetto all'edilizia convenzionale. Non devo prendere il mattone e il cemento e costruire il muro. Mi arrivano dei prodotti che sono già pronti, sono già stati controllati e sono immediatamente messi in opera. Anche lì i vantaggi sono notevoli. Il materiale che viene utilizzato per i sistemi a secco è qualcosa riciclabile, già così come si trova. L'acciaio che viene usato per le pareti può essere immediatamente riciclato e qualcosa, bisogna magari di una lavorazione in più, ma viene comunque riciclato e rimesso nel ciclo produttivo. I prodotti per i sistemi costruttivi a secco hanno avuto un'evoluzione velocissima. La ricerca in questo campo è continua. I produttori fanno gara a chi riesce a produrre il prodotto più prestazionale. Una volta esistevano due o tre tipologie di lastre che erano veramente cartone e gesso. Oggi è sbagliato chiamarlo così perché ci sono lastre che non hanno niente a che vedere né con il cartone. Sì, il gesso rimane la base, ma possono essere degli impasti con tutta un'altra serie di prodotti a seconda della prestazione che voglio ottenere e del lavoro che voglio andare a fare. Le prospettive sono senz'altro buone e interessanti. Oggi si fa molta fatica con l'edilizia tradizionale a raggiungere i parametri minimi, ad esempio, di contenimento energetico che vengono richiesti dalle varie normative. I costi sono completamente diversi, gli ingombri sono completamente diversi, i tempi di esecuzione sono completamente diversi. Il laterizio è il materiale sostenibile. È il materiale sostenibile perché porta con sé una storicità e non vogliamo parlare di come gli egizi romani costruivano i loro edifici. Ed è un materiale che si produce dalla terracotta. Può essere un materiale che è sostenibile solo se è collegato a processi industriali che lo rendono tale. Gli edifici oggi devono essere sempre meno energivori e il laterizio è un materiale assolutamente adatto per poter raggiungere l'obiettivo di un edificio a energia quasi zero. Il laterizio, essendo un materiale sostenibile, porta con sé caratteristiche di artigianalità, di benessere abitativo, ma anche deve essere sposato a un livello tecnologico adeguato, in modo tale che sia un materiale per che i nostri progettisti, i nostri costruttori possano realizzare un benessere abitativo per chi andrà ad abitare le case che noi contribuiamo a costruire. Pensate che solo nel 2015 il gruppo Wienerberger ha contribuito a realizzare quasi 150.000 abitazioni, tutte con caratteristiche dovute al risparmio energetico. Il laterizio è un materiale da costruzione, noi parliamo di soluzioni per l'involucro, stiamo anche parlando di qualcosa che è la carrosseria della nostra abitazione e come carrosseria è anche assolutamente un materiale tecnico e adeguato a fornire soluzioni ai progettisti che siano a norma di antisismi. La certificazione dei materiali da costruzione è assolutamente fondamentale, è la carta d'entità della veridicità di un prodotto. Wienerberger si è dotata nel corso degli anni di una serie di certificazioni assolutamente importanti, che sono tra l'altro la certificazione OH-SAS 18.000 sulla sicurezza dei lavoratori, l'anno successivo ci siamo dotati della ISO 14.000 quindi sulla certificazione ambientale, l'obiettivo per il prossimo anno perché siamo in sempre e contiene evoluzione sarà la certificazione 50.001 sulla riduzione del consumo energetico nei sistemi produttivi. Una delle certificazioni delle quali andiamo più orgogliosi è la certificazione LEAD, che significa Leader in Energy and Environmental Design, e grazie a questa certificazione per i sistemi sostenibili che utilizziamo nella produzione dei nostri prodotti abbiamo partecipato alla costruzione dell'eco grill sulla Milano Laghi, che è uno dei fiori all'occhiello dei nostri sistemi. Il Laterizio ha in sé una storicità assoluta che porta con la tecnologia che i produttori di Laterizio riescono a mettere oggi nei nostri sistemi a un edificio veramente con elevati livelli di benessere abitativo. Benessere abitativo che si ripercuote nella facilità di progettazione dei nostri materiali, nella veridicità tra quello che è il progetto e la fase di esecuzione del sistema, nella facilità di manutenzione dell'edificio durante la vita e soprattutto in quello di riuscire a raggiungere gli obiettivi per i quali il progetto è stato realizzato. E non dimentichiamoci in ultimo della durabilità che il Laterizio si porta dietro. Basta vedere gli esempi delle costruzioni in tutta Italia e in tutta Europa per capire che questo è un materiale che non è uguale da questo punto di vista. Grazie a tutti.